no eh lo sapevo io non c'è dovevo venire aspetta vediamo se ti offre il caffè sei dei nostri bravo sei caduto bene e ora ragazzi gli offriamo un caffè all'italiano però eh domani cominciamo gli allenamenti ci voleva proprio sto caffè è la vazza lo esportano anche in Brasile no eh la vazza perché il caffè è un piacere comoda la strada comoda la vita con la nuova Peugeot 405 Meeting nuova Peugeot 405 Meeting a tutto quel che vi piace anche il prezzo è purissima la montagna sa chi è purissima levissima altissima purissima levissima i detersivi per piatti aggrediscono la pelle? no sono abbastanza delicati ci laverebbe allora il suo bambino? beh no oggi c'è Dixam Piatti Balsam concentrato cremoso ma soprattutto delicato sulle mani nuovo Dixam Piatti Balsam la scelta ideale per pelli sensibili e stoviglie brillanti incredibile allora ci laverebbe il suo bambino? no i piatti ma è bello sapere che potrei Dixam Piatti Balsam il pulito per pelli sensibili ma non t'aspettavo ah no? ma non così presto sei in anticipo il tuo fritto? croccante e asciutto fa sempre colpo ma che ci fai fritti friol? frigge croccante e asciutto le statistiche dicono che il 73% degli incidenti avviene in città quindi è proprio in città che l'airbag e le cinture servono di più il 4 febbraio Ford presenta le nuove Fiesta 1994 tutte con airbag di serie un esempio? nuova Fiesta Newport con airbag 15.780.000 lire per saperne di più chiama il numero verde Ford informazioni sicurezza Ford buongiorno questo è Cosè un grande caffè con un grande aroma e il gusto tipico del caffè latino americano e costa pochissimo il caffè latino americano buono e conveniente buonasera come sapete quest'anno si porta molto alla giustizia e quindi anche noi non potevamo non presentarvi le immagini del processo dell'anno un dramma consumato sotto l'occhio impietoso delle telecamere lei accetta di essere teleribreso? preferirei di no una lotta ad armi impari tra il pubblico ministero il suo antagonista l'avvocato spaziale obiezione nucleare uno spettacolo mai visto parli più forte non si capisce niente uno, due, tre miliardi prova prova miliardi l'udiezza è tolta ci aggiorniamo a domenica no, no domenica alle 20.30 scurrai trecce tunnel chi è il tunnel? testimone, indagato chi è? sono quelli di avanzi stanno ancora a piede libero no, no stanno nel tunnel quelli di avanzi l'altro anno avanzi quest'anno tunnel tunnel di avanzi tunnel di avanzi avanzi di tunnel avanzi che è il tunnel di avanzi che è il tunnel di avanzi Grazie a tutti.